Salve a tutti e benvenuti ragazzi, in questi giorni ci sono dei video strani, stiamo insegnando i perfecchi, come si dice? Cioè, questo qua è fatto. Cominciamo! Questa scrittura è un 80 e la possono capire solamente ci sono fatti. Possiamo capire che è questa motivazione nella quale bisogna... non si capisce proprio niente. Fate finta che questa qua... Sì, per favore, perché ti credo che questa è la penna. Beh, secondo me, come da Maria De Filippi e aspetta. Allora, non lo so, e aspetta. Qualche lezione di ballo, però... ...e non ho un po' le braccia, se no, che fai così? Cambio ogni tanto, no? Ma un del scio si scia, come se non ho messo, ho messo il cappuccio, ho messo il cappuccio, ho messo il cappuccio, ho messo il cappuccio... ...per via di prima... ...e a me non si capiva qualcosa... ...ma qua... ...mi fate anche un'idea cosa facciamo con questo pochino... ...no? Io mi domando... ...perché... ...non è una penna nella mela... ...non è molto gelosa... ...non è una penna nella mela... ...non ha senso... ...non ha nessuna spiegazione... ...non può essere, no? Io mi domando... ...perché... ...non è detta... ...tenne nella... ...che... ...non ha senso... ...non ha senso il pazzo lo sa... ...ok... ...guardate questi video sempre... ...anziché mangiare sempre roba... ...di prima... ...fasavamo queste cose... ...questo video è stato registrato... ...alle 9... ...justamente... ...non si mette alla sera a farti... ...beh, lo so... ...dovrò cliccare a condividere i social media... ...e... ...lasciate... ...e... ...scrivetevi al mio canale... ...ciao a tutti... ...bella ragazza... ...ciao...